Buon minio si vede in giù? Pronti? Si va? Davide, Claudio, Dage, avanti che c'è la strada. Aspettate sui bivi, eh? 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 Grazie a tutti. 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 Siamo tutti? Grazie a tutti. 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 Andrò. Che schifo. Che merda di roba. Ok. Grazie a tutti. Aspetta un momento dai. David. Sorridi che sei su candid camera. Vai a dare un bacino a una telecamera. con il rossetto. Che è quello che l'ascolti? Io ho bisogno di qualcuno davanti. se non c'è una telecamera. che è una telecamera. No. non c'è una telecamera. 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 che è una telecamera. Ma era mal perché sei morto. Oh, pari. Grazie. Sì, sì, sono arrivati, siete Walter di là tranquilli, quello meno io lui. Grazie. Guardi, quasi, pensavo che si facesse l'altra sentenza. Grazie. Guardi che sono venute giù le pecore stamattina, ci sento la piccia. Eh, sta tendo, ha sulle gomme il blu, adesso. Alla fine, l'holla, l'holla. Non ci fanno per mezzare. Chiara, se è un'altra sentenza. Chiara, se è la sentenza. Sì, è un'altra sentenza, non è vero. Ci sono anche un'altra sentenza. Chiara, la sentenza di un'altra sentenza, non è vero. Chiara, la sentenza di un'altra sentenza. Sì, è vero. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, forse è questo Siamo su quello giusto Siamo su quello giusto Siamo su quello giusto Sandro o dovrebbe essere quella? Se si scotta 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 Un viaggio Scusa, una maletta della scotta Eh scusa, un viaggio e le mandine fatti pagare Sì 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 Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Andate avanti qualcuno che sto ancora filmando Passi passi che sto intimo filmando Sto intimo in macchina Sì 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 Sì